sto partorendo bianco o rosso bianco carino niente occhi io penso questo sembra davvero stupido occhi normali versus occhi spaventosi penso che sia normale o questo è spettacolare vestito da giullare o vestito da camelliera giullare o bel vestito posso andare al circo con questi vestiti cappello da giullare o cappello da mario giullare questo è folle stivali da clown o scarpe normali stivali da clown c'è in corsanca o non c'è in corsi riferisco no ma nel film ha l'anca censuratrice sulla bocca così wow non posso giurare adesso pompon o campanelli pompon wow sembra bello capelli corti o capelli lunghi penso breve come pommi stai benissimo diventare pommi andiamo wow sembriamo malati questo è davvero pazzesco ora astratti o rimani vivo astratto sto riscontrando wow sono pommi sto diventando cane denti in testa o no denti preferirei avere denti in testa solo per mangiare cibo fantastico occhio verde o occhi strani naturalmente cosa è dentro i miei denti ora prossimo occhio blu o occhiali da sole occhio blu io ho fantastico cilindro o berretto smetti il berretto voglio il cilindro andiamo completo rosa o camicia verde penso rosa tuta rosa andiamo pazzesco ora gambe divertenti o pantaloni strani gambe divertenti vabbè è pazzesco bacchetta magica o spada non mi piace la violenza quindi bacchetta magica cosa posso sparare a tutti e infine diventa cane vai sì signore sembra così buono è il momento del caino diventando jacks viola o verde viola freddo orecchie da coniglio occhi viola orecchie da coniglio perché jacks nella serie è un coniglietto tocchiamolo wow ho le orecchie perfette occhi arrabbiati occhi adorabili arrabbiato sembro arrabbiato bocca arrabbiata o bocca felice arrabbiato ho un bel aspetto testa di jacks o testa di nubo jacks malvagio o magico magia questo è spettacolare essere beach o ultra beach beach sto riscontrando problemi ultimo jacks finalmente diventeremo jacks 3 2 1 o sembra fantastico esattamente come in mostra tutti i miei bambini sono pronti o no qualcuno ha ucciso i miei figli pocca per favore aiutami a trovare chi li ha uccisi perché altrimenti la principessa lulilalu morirà entro 24 ore non preoccuparti troverò l'assassino aspetta chi ha ucciso pommi stava derubando la mia banca ho bisogno di rapinare questa banca velocemente ehi muori muori sento la polizia e apriamola jacks cosa sto rubando questo oro e andiamo via aspetta cosa ma perché perché mi hai messo in prigione hai rubato i miei soldi ok ciao perdente ma che dire di king e si è innamorato ti amo king aspetta cosa stanno facendo palmi cosa stai facendo non sapevo che tu fossi qui è troppo king stai per morire oh no ho ucciso pommi quindi forse è stato calmo stavo trasformandolo in glitch e ora di farti qui ora bastone aha perfetto ora tu wow questo è pazzesco ora lei e cosa mi hai fatto ah 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 ora per favore non farlo sul mio viso e ultimo pommi andiamo il mio viso sono qui quindi l'hai uccisa tua non l'ho fatto lui l'amava ma lei ha scelto jacks mangio tutti ho bisogno di aiutarli ok il prossimo il prossimo il prossimo non parteciperò a questo eccolo qui ah e dove mi ha portato popcat valuta i nostri jumpscare su questo forum per ottenere un milione di dollari ok facciamolo prima tu hai la mia testa ora la vasca da bagno ok gangola ha preso una c e il manichino prende b ora dors la mia testa ti do la c ora caofmo la mia testa ti do b il prossimo è il grasso kain cd il peggiore ora kain si è bloccato andai a c ora jack si è bloccato lasciatiti porti in c il prossimo gangol normale e il mio era b ora ragata sono traumatizzato vai a b ora kinger non male c ora pommi le mie ossa lascia che ti porti in a ora zuboli vai in a ora caofmo beach uno dei più spaventosi a ora tu vai a c ora luna per me era b e ora sole vai a b ok tutti sono classificati e ho ricevuto i miei soldi vai a ok quindi ora mio turno boxy boo a più anche tu brutto aia di notte non può essere così devo allenarmi inizio wow wow ce l'ho fatta sembra buono wow ha fatto l'upgrade andiamo a dormire meanwhile distruggiamo il mondo il giorno dopo disegna ciò che ami ok fatto cosa vai in prigione no wow oddio perfetto sono quasi alla fine wow sembra fantastico sento l'upgrade wow ho dieci anni aspetta ma questo è brutto non sono nemmeno io noob aiuto sono pronto oddio ti conosco da qualche parte il giorno dopo prossimo giorno fantastico aiutatemi umme oddio proverò a disegnare qualcosa sì vogliamo a più che cosa e ora allenamento oddio ha funzionato sento di aver fatto di nuovo l'upgrade ragazzi disegnate gli amici arcobaleno ora il mio turno approverò ancora fatto ancora male cosa ultimo tentativo questo è perfetto esci da qui perfetto a più grazie non è nemmeno un amico arcobaleno lo brucerò aiuto dove è nostro padre dove è nostro padre umm cosa sai i miei dipinti ho chiamato la polizia andrai in prigione aspetta o no sei arrestato no sì dai devo uscire disegniamo qualcosa fatto wow fatto oddio ho bisogno di qualcosa di più grande sì 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 ce l'ho fatta sono uscito aspetta sento l'evoluzione wow wow aspetta quindi posso disegnare una ragazza adesso? ce l'ho fatta oddio ciao perché l'hai disegnata? ti ho dato questo potere e non puoi infrangere queste regole non riesco a disegnare la diapositiva sì quindi io no ce l'ho fatta wow nuova diapositiva sì dove siamo? dove siamo? vieni da papà regola infranta ho fatto l'upgrade no sparo alla mela ok no disegniamo il suo fantasma fatto non ho alcun brutto presentimento per te addio cosa? no aspetta fatto prossimo niente ragazze vedo qualcuno qui ciao ti piaccio no devo disegnare una ragazza fatto mi piace regola infranta prossimo niente disegni in paradiso cosa significa? no sono morto valutare quelle persone per ottenere la prossima evoluzione cosa? ha perso la sua ragazza ed è diventato estremamente triste così triste? aspetta ti aiuterò fatto fatto ciao oddio aspetta ti faccio vedere una cosa è bellissimo prossimo il suo salto spaventoso deve essere più carino lascia che lo disegni per te mostrami ora era così carino bene aveva dieci bambini dentro di lui per tenerli al sicuro sei un grande genitore ha costruito un'intera casa dentro di lui ma voleva trasferirsi in un posto migliore cosa c'è dentro? amiamo la nostra casa ma ne vogliamo una nuova hai bisogno di una nuova casa quindi ti disegnerò fatto wow grazie mille evviva eri bravo ho fatto l'upgrade prossimo il suo cuore è nero e senza emozioni vero ti disegnerò uno fatto ciao sono il tuo nuovo cuore ha messo le piragna nei pantaloni del bullo lasciatemi in pace no 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 attacco di pesci male era odiata dalle ragazze popolari a scuola quindi le ha chiuse in un acquario ah perdente ah perdente ah perdente pagherai per questo mano andare chiuderli male voleva un ragazzo ma ogni ragazzo aveva paura di lei lascia che io disegni ce l'ho fatta ciao ragazza bacio ok buon dio prossimo voleva un bambino fatto buon dio evviva mi piace e iscriviti se vuoi robux gratis è diventata piena di colori dopo aver ottenuto tutto ciò che voleva bene sei felice sono il prossimo dentro di lui ha i suoi bambini papà papà oddio bene è stato distrutto e voleva sembrare più amichevole di prima cari i bambini si prendevano gioco di lui così li ha investiti questo treno è brutto ahhh 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 male ha iniziato una grande lotta con Thomas il treno ed ha esploso voleva essere più veloce della Lamborghini facciamo una gara se vinci uguale paradiso 2 1 vanno no ho vinto vai in paradiso odiavano il loro bambino così hanno rapito la sua amica Mano per sempre resterete qui per sempre perché mamma no male hanno messo il loro bambino nella scuola più spaventosa del mondo volevano un nuovo bambino non ho mai incontrato persone così cattive nella mia vita no no l'ultimo tutti gli amici arcobaleno sono morti ed è diventato solo ti disegnerò dei nuovi fatto wow grazie mille li ha mandati a mangiare bambini all'asilo cosa ha usato l'amico viola per rubare la sua ragazza preferita mentre dormiva no estremamente cattivo rimangono solo tre regole sta infrangendo le regole prendilo oh no devo disegnare un mostro veloce no voglio disegnare Godzilla fatto bello ho infranto la regola ne restano solo due aggiornamento oddio prossimo no alfabeto lore mi sento solo aiuto ok aspetta un secondo grazie prossimo no alfabeto f ora prossimo no alfabeto prossimo no alfabeto Fatto. Oddio, sento l'aggiornamento. Oddio, sono tre treni contemporaneamente. Il prossimo è niente dipinti in prigione. Perché nostro padre è morto chi giudicherà queste persone ora? Posso. Cosa? Per favore dammi una possibilità. Bene. Prima la mamma. Ha perso le gambe in una lotta con il giocatore. Disegniamolo. Wow. Prendilo. Finalmente. Grazie. Voleva avere un cervello più grande perché le persone ridevano a scuola. Dicci quanto fa due più due? Tre. Ah 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 ah. Noob. Non preoccuparti. Disegnerò. Fatto. Oddio, sei troppo intelligente. Voleva un ragazzo come Daddy Long Legs. Buono. Lo disegnerò. Vai al bene allora. Picchiava i bambini per divertimento. No. No. Sì. Che cos'è questo? Mal. Stai creando violenza. Si trasformava in una piccola mano e guardava la gente di notte. What? Spiare è male. È stato schiacciato dal giocatore in Poppy Playtime. Oh no. Chi è questo? Ops. Voleva qualcuno come lui per essere amico di lui. O triste. Ma eri una cattiva persona. Mi dispiace. Male. Prossimo. Ha perso la sua famiglia a causa dell'influenza. Ora è così triste. Buono. Voleva essere più magro perché tutti si prendevano gioco di lui. Sono così triste. Voleva una nuova macchina perché era povero. Bene, è un sogno ed è bello. L'ultimo oddio cos'è questo? Ha perso il fratello. Triste. Si è trasformata da maiale a killer di maiali. Era la più spaventosa al mondo. Non male. Vai al... Princess Lunilalu è morta. Troverò l'assassino. Non preoccuparti. È stato uno di voi. Bambini del film. Bambino del film. Eri tu? No. L'ho lanciata sulla luna ma era solo per divertimento. Era così dolce. Rispetto a te. Ci stavamo divertendo finché degli uomini in giacca non l'hanno rubata. Cosa c'è? Questo uccello non ti appartiene. Dobbiamo restituirlo al suo vero proprietario. Per favore, mantieni la calma e seguici. Cosa? Quindi l'hai rubato a questo bambino? Stavamo facendo degli esperimenti su di lei. Opila, bevi questo. Ok. Ah, sei un perdente. Quindi l'hai incisa. Andrai in prigione. No. Chi li ha uccisi? Tu. Quindi è stato la blama. No, stavo facendo uno scherzo ai youtuber in quel momento. Ti vedo. Adam, scappa. I'm a genius. Go! Go, the opposite. Go, 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 go. Let's do it. Go, right, go, right, go, right, go. Go! What is going on? Oh no. Wow ragazzi, Justin è pazzo. Oh mio dio. Cosa faccio? Oh mio dio. Oh mio dio. Oh mio dio. Ok, la mia ultima vittima. Oh mio dio, quindi l'hai incisa. No, te lo prometto, non sono stato io. Cosa? È morto. No, no, no. Non è possibile. Aspetta, cos'è questo? Bambam, è tuo? Forse. L'hai ucciso. No, non sono stato io. Ero su un palco e tutti mi odiavano perché mi trollavano. Prendente. Oh, no, no. Sì! 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 Ah, ah. Ah, perdente. Perché hai fatto questo a me, bro? Perdente Bambam. Ora tocca a me. Nananana. Amo cantare. Iai, iai. Iai. Ti vogliamo bene, Bambam. perché hai fatto questo a me bro non può essere così guardati dietro quindi hai ucciso bambalena non è possibile ma chi ha ucciso opila allora ho visto che qualcuno l'ha colpita con l'auto ehi opila attenzione c'è un guidatore scadente oh mio dio ho visto che pigstel controllava l'auto no non sono stato io mi sono innamorato di lei chiederò un appuntamento alla mia cotta opila ok un'ora dopo ok mi chiedo cosa mi ha fatto cosa pesche ti amo ah non sarò mai con te l'hai incisa con un coltello no era uno scherzo ma lei mi ha fatto uno jump scare era uno scherzo te lo prometto non mi importa no per favore smettila fermati no forse qualcuno della tua famiglia ha voluto aiutarti e l'ha uccisa no mio fratello si è fuso disgustoso chi l'ha ucciso cos'è questo i capelli di amanda stavo usando il coltello ma non suopila guarda bello lavoro possiamo usare un coltello affilato non penso che dovremmo farlo da soli è sempre buono essere coraggiosi quando sei da solo guarda sono un tirata ah non sembra sicuro oh mio dio è stato così irresponsabile ma aspetta cos'è questo nastro non ascoltatela ha ucciso opila te lo prometto chi hai detto oh mio dio cosa uli adesso tocca a te cosa oh mio dio mi hai salvato si aspetta posso vedere il tuo coltello si chiume dell'uccello opila no mi stava bullizzando ma non l'ho uccisa no per favore no non ferirmi ah perdente ti taglierò il naso no 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 prenderò vendetta su di te cane puoi darmi il tuo naso fammi fare per te grazie dammi il tuo naso amico mai quindi hai ucciso l'uccello opila no no perché l'hai ucciso non sono stato io stavo togliendo le maschere a garten dei personaggi di bambam sono sceriffo e oggi vedrò le facce di tutti quei criminali oh mio dio prima selina di lumaca no per favore no come hai fatto a saperlo il prossimo nab nab per favore no 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 poliziotto berri fratello sceriffo signor flin flem wow ora zolfius cosa tuberi porcaro per favore non mostrare questo in camera mister beast credevo che tu stessi regalando dei soldi ora canguro adam di lenkybox ora tu justin di lennycox tempo di bambam per favore non mostrare questo cric craft a ti amo fratello bambalena genna genna ma aspetta ne manca uno uccello opila aspetta fermati tornare per favore per favore lasciami in pace mai sei arrestato non è possibile è sopravvissuta ed è andata a cercare aiuto ho bisogno di aiuto questa è la famiglia perfetta facciamo una reazione a qualche jumpscare chiederò loro di adottarmi ehi potete adottarmi cibo cibo quindi siete stati voi l'avete mangiata oh mio dio no no sono venuti per lei chi non è possibile di nuovo le luci ehi l'avete uccisa voi per parlare dobbiamo avere la testa al suo posto ok lasciatemi disegnare per voi fatto il prossimo bene e l'ultimo siete pronti controlliamo mi fa male ok ora dimmi cosa hai fatto a opila ci deve dei soldi quindi l'abbiamo spaventata ok dateci i soldi o useremo i nostri jumpscare su di voi no 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 per favore non sopravvivrei quindi date i soldi non li ho jumpscare metti mi piace e iscriviti prima che tutte le paure passino e salverai opila l'hai uccisa il caso è chiuso aspetta cosa ma ci bullizzava fin dalla nascita credo sia giunto il momento amico spaventerò questi ragazzi con uno spavento improvviso ah sono un buffone ma non è comunque una ragione per uccidere le persone andrai in prigione ma non è morta ehi ehi firmati cosa hai fatto a quelle entità oh me pensavo che avrebbero svelato il mio segreto quale segreto hai inciso opila ho usato la magia per tagliarla in due ma non ha funzionato oggi taglierò opila in due oh mio dio spero tu sappia cosa fare iniziamo controlliamo omg 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 oh me va bene em non sembra buono omg opila mi dispiace ok amico andrai in prigione per questo trucco di magia no aspettiamo il meglio cosa ho fatto em chi sei hai ucciso la falsa opila ora decidi quale è la vera questo è falso ho indovinato giusto per verificare quale è reale disegnati fatto opila disegna incredibilmente bene quindi sei fuori avevo ragione disegna ora il tuo amore fatto va bene sappiamo tutti che opila ama lo sceriffo avevo ragione non ho ucciso opila quindi se non sei stato tu allora chi non è possibile il prossimo ah ah aspetta ehi ah cosa fermati perché ridi accanto a lei ridevamo perché la odiamo perché perché voleva mostrare a tutti le nostre vere voci sto per mostrare le vostre voci reali di garden di personaggi ban ban prima lumaca per favore fa male prossimo sceriffo dobbiamo porre fine a questa follia non abbiamo molto tempo arriveranno presto poi jumbo vieni qui cosa hai detto vieni qui o qualcosa del genere il prossimo se fiddles sentiamolo voce straordinaria sei solo un insetto adoro questo verso ok e l'ultima zolfio per favore non mostrarlo lo farò piacere di conoscerti vedo tutto il tuo tempo è finito perché hai fatto questo che cos'è questo aiuto ho tanta paura cadrò no è caduta e morta è tutta colpa tua l'hai uccisa no è sopravvissuta sono vivo oh quindi è colpa di jumbo no ho cercato di baciarla ti bacerò per favore no per favore fermati fermati è mia ok quindi qualcuno rosso ha fatto questo i bambini di bambana non lo farebbero mai sono troppo dolci fratelli adesso ok quindi l'hai fatto tu l'ho presa e l'ho gettata nel fuoco cosa opila è in questa borsa la getterò nel fuoco ah quindi sei stato tu il caso è chiuso aspetta cosa ho trovato un video e non c'era opila in questa borsa oh no vediamo chi c'era dentro fiddles non è possibile controlla la chiocciola selene no non sono stata io eravamo fratelli penso che sia il momento perché questa è diversa ah 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 non così arrabbiate ed infine vieni qui quindi l'hai uccisa no erano i suoi fratelli non è possibile di nuovo aspetta dove va questo sangue qui chi è questo la famiglia nab nab non l'abbiamo fatto noi ehm sei un sospettato no eravamo in squid game ma hai ucciso opila no eravamo in squid game andare schibi perché non vai non preoccuparti opila ci penso io come lo schiegherai? era solo un gioco non è morta non c'è modo aspetta di nuovo cosa? cosa è successo? chi è questo? ehi sei stato arrestato dimmi cosa hai fatto a questo posto e dove è opila? posto pensavo che non lo avresti mai visto ok ragazzi chi salta più lontano vince ti eliminerò opila mai vai ho vinto perdente ma tu avevi un'auto migliore non è giusto verità opila vince cosa? non può essere così ok ti abbiamo preso ora andrai in prigione no ah ti amo qualcuno mi ha allungato mamma papà popcat mi ha trollato che cosa? per favore non parlare devo imparare wow wow sono intelligente secchione secchione perché hai trollato tua sorella? cosa? oh my god mi ha fatto male non ero io non ti credo inizia a sollevare aiutami di note le mie ossa aiuto genitori dove sono? guarda cosa gli hai fatto se perdi sei fuori dalla nostra famiglia ma non ero io sei stato tu inizia o mi ha rubato il mio non può devo imparare wow l'ho fatto fammi imparare dove è il suo punto debole qui ah difficile cosa non piace ai king kong vita facile vediamo come saltare più in alto bello sta arrivando godzilla ah l'ultimo non può essere così per favore no non ero io davvero ti odio non tornare più la note successiva sono troppo alta genitori sto chiamando la polizia sono così triste sei arrestato cosa? non funziona dimmi cosa hai fatto non lo so come niente stai allungando la gente di notte è falso no prigione sono troppo intelligente uscirò guarda ha perso la chiave facile facile veloce ahi è stato disgustoso sei troppo intelligente dove mi hai portato? dobbiamo renderti stupido no ti prego no sono così stupida non so come camminare non può essere così devo imparare wow matematica ehi cosa? abbiamo bisogno di te e che? cosa hai fatto? mi dimetto da questo lavoro oh ok ok prima di tutto Hulk non ho fatto niente OMG fratello vediamo cosa hai fatto è stato catturato mentre distruggeva edifici mostrami il filmato qui signore grazie fratello ridammi mio figlio mai dai ridammielo no mi piace e sottoscrivi la casa uguale per questo bambino wow era triste stavi cercando di salvare tua figlia grazie ha bevuto la pozione ed è diventato verde aspetta questo è davvero brutto vai qui ha vinto un gioco di tiro alla fine con i calamari grazie ai suoi muscoli va bene sei libero bello il prossimo è difficile OMG gru e i minions cosa? liberi lasciateci liberi ha rubato la luna questo è male usciva con le ragazze minion e m questo è strano brutto cosa? cosa? ha sganciato una bomba nucleare sulla terra aspetta questo è super cattivo fratello e l'ultima cosa ha fatto uscire il virus dal baratono con il dottore aspetta è vero? si OMG no ehi vai in prigione no si dammi la prossima il prossimo pb cosa? OMG sembra un'immagine diciata lasciamo in pace No, 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 no. Smettila. Vediamo cosa hai fatto. Stava creando i bambini. È ingiusto. Smettila di farlo. Ha un coltello in tasca. Stava scavando sotto la prigione. Hai scavato sotto la prigione? No. Prendetela. Ehi, torna indietro. Mai, per favore. Mio bambino è triste. Oh, è triste. Vieni con noi. Troveremo una casa per il tuo bambino. Ma tu andrai in prigione. OMG, questo lavoro è difficile. Amici dell'arcobaleno, ho sentito parlare di te. Io sono buono. Ha iniziato a sparare al supermercato. Wow, è troppo. Il prossimo Ato ha dato fuoco alla sua scuola. Fratello, smettila. Questo è male. Il prossimo. Ha punito l'insegnante con un trucco orribile e i capelli bruciati. Sei cattivo. Vai nella tua cella. Sei libero per questo. Grazie, finalmente. Devo imparare di più. Wow, è molto. Ok, sono pronto. Genitori, statisticamente è impossibile che sia tornato. Non mi importa. Torna quando sarai più forte. Ok, ok. OMG, devo allenarmi come un professionista. Wow, sta funzionando. Ora il mio cervello dice di sollevare. Cominciamo. Wow, il prossimo. Wow, guardami. Difficile, ma funzionante. Ce l'ho fatta. L'ultimo. Ah, lavorare come sempre. Perché ti sta facendo questo? Genitori, ora posso risolvere chi sta facendo questo. Wow, sì. Di notte. Ok, bello. Dormire. E mi nasconderò qui. Sei dolce. È ora di prenderlo. Torna indietro. Ah, ti ho preso. Dove è andato? Sto entrando. Vieni qui. Dove sono? Ehi. È scapato. Vediamo cos'è questo. La vita dell'amico arcobaleno. Dacci i tuoi soldi, ragazzo. No, aiuto. Ehi, fermati. Oh mio Dio, grazie. Vuoi essere la mia ragazza? Sì. Vuoi sposarmi? Mi prendo i tuoi figli. Troveremo i nostri figli. Non preoccuparti. Wow, questa storia era triste. Ma ho perso lui. Hello there. Oh mio Dio. OMG, lei è così alta. Aiutami. È troppo. Sto richiamando la polizia. No, per favore. Non se ne parla. Il mio vecchio lavoro. Ciao, sono un uomo davanti alla finestra. Ha rotto le ossa ai bambini. Male, male, male. Si fermava davanti alle porte delle persone per ore e le fissava. E è strano ma va bene. L'ultimo. Si è sbraiato facilmente sotto il letto del bambino. Strano e illegale. Andrai in prigione. Il prossimo. Non c'è modo. Vieni qui Gargamella e i Puffi. Sì. Hanno attaccato la città dei piccoli Puffi. Fecero una zuppa di Puffi. Ha schiacciato le case dei Puffi con il suo chiede. Ok, sei una persona cattiva. Ma tu sei libero. Bello. Oh no. Jenna. Vieni qui. Smettila di baciare. Aiuto. Ok, vediamo. Aveva una cotta per PopCut. E ne mi sento strano a... Bene. Ha hackerato il computer di PopCut. Stava insultando in un gioco per bambini. Bello bello. Vai in prigione. Puoi andare. No. Ah. Easy. È ora di risolvere l'ultima domanda. Ho lavorato su questo per così tanto tempo. E so come prenderlo. Ah. No, non l'ho fatto io. Siete arrestati. Ciao a tutti. Ti ho preso. Quindi ora devo giudicarvi. Ma prima. Wait a minute. Non ho fatto nulla di male. Are you sure about that? Aggrediva i bambini all'asilo. Truffava la gente per soldi. Non è un bravo ragazzo. Non mi interessa. Stop. Lui impiega illegalmente dei bambini per lavorare per lui. Dio mio. Sei una persona cattiva fratello. Prossimo. Prendevano i giocatori e li schiacciavano. È vero questo? No. No. Sì, lo era. No. È il tema. Cattivo. Invitavano le persone alla fabbrica. Bene. Cambiavano le persone in giocattoli. Oh my God. Molto male. Andrai in prigione. No. No. Il giocatore è il prossimo. Sei stato in prigione? Sì, mi dispiace. Faceva il bullo a Ugi-Waki. Non bene. Mi dispiace. Questo è per te. Oh grazie. Questo è stato bene. Apriva le porte con il suo grab pack. Ha gettato papà e mamma long legs in una tritta carne. Non sei così cattivo. Sei libero. Ok, solo due rimasti. Ciao. Sono un mangiatore di treni. Attaccava i nemici ai binari e gli faceva investire. Dio, era brutto fratello. Non bene, non bene. Mi dispiace. Vediamo il prossimo. Demoliva gli edifici. Non lo so. No, 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 no! Fermati! Sei cattivo! Mangiava i bambini dopo averli presi! Sei super cattivo! Qui, per l'ultimo! Perché hai fatto questo? Posso mostrarti, vuoi vedere la mia faccia? Sì! questo è il mio amico dio mio amo tua sorella cosa mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale testiamolo ho creato dei bambini bellissimi a mutiamoli fatto non mi sento bene papà vieni qui papà ancora oddio ha funzionato il mio pennello è il migliore e riportaci alla normalità orario della lezione bambini disegnatemi facile buono evviva il mio turno buono lascia che te lo disegni che cos'è questo cattivo aspetta mi dispiace ho troppo potere non disegnerò mai più niente popcat cosa hai fatto ho bisogno di disegnare fatto è la tua fine poca oddio cosa è appena successo se ho dei super poteri come posso fare soldi guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari prima io a perdenti il mio turno posso provare a si ma perderai devo disegnare una macchina fatto wow sta volando aspetta come facile questa è impossibile ho bisogno di una nuova macchina ah andiamo oh mio dio ce l'ho fatta non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio sono ricco sono ricco ma ne ho bisogno di più chi salterà più lontano vincerà l'intera terra oddio è questa la mia macchina sono il primo bel salto il mio turno che bel salto tocca a me perdenti buon salto tempo per me noob arriverò alla mia lambo salto intermedio ora è tempo per il bagno aspetta è troppo lento lasciate che mi disegni una nuova fatto wow oddio quasi la fine congratulazioni hai vinto la terra andiamo la polizia lui sta imbrogliando catturatelo devo disegnare una macchina fatto wow devo disegnare disegnare di nuovo fatto ok è ora di distruggerli wow ha funzionato capo cosa devo fare saltami addosso grazie ora devo nascondermi perché ce ne sono altri oh no cosa dovrei disegnare dopo boom pokat aiutami stanno distruggendo la mia fabbrica oddio disegnerò personaggi personalizzati non ti preoccupare fatto wow ora penserò a qualcosa di strano fratello che bello sta qui prossimo ah incredibile ultimi due oddio prossimo fatto wow ok attacco grazie mille pokat nessun problema ma ora sei in arresto mi dispiace cosa si fermi si fermi lì incredibile sono in prigione disegnerò la fuga bello ume ume ciao sto valutando da ora ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova lo farò io bello tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi tutti i miei amici sono morti aiutami per favore disegniamo fatto evviva prossimo stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire mi sta maltrattando per favore disegna un crucifisso non c'è da preoccuparsi grazie grazie tutto l'uno il prossimo è zolfius si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco ok fammi provare fatto grazie voleva essere più grande della terra oh sarà difficile ma ce la farò ok ce l'ho fatta bene ha rubato l'autobus con i bambini di randy friends è brutto quindi ciao ciao facile ok il prossimo è stato picchiato dai bugli e voleva denti e rossa nuove per spaventare la gente disegniamo fatto wow questo è così figo ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito i bambini restano qui per un momento dei bambini una buona cena aspetta non mi sento così bene perché ci hai mangiato ehi se vuoi ottenere robux per i prossimi 10 giorni metti a mi piace e iscriviti ora ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con tazzo smettila di inseguire le persone fratello il prossimo aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo sai disegnare i personaggi sì ho un'idea perfetto il prossimo fatto oh no fa schifo ma lo amo aspetta a prendere il vestito grazie il prossimo fatto forse l'ultimo oh my god disgustoso che cosa hai detto il prossimo voleva valutare ogni jump scare di ognuno da garten di bambam oggi valuterò tutti i vostri jump scares prima ahi ora tu buono prossimo ora tu ah capito non fa paura il prossimo è lo squalo spaventoso ora scream eugen l'ultimo buono wow è stato impressionante il prossimo morto voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di bambam mostrerò la tua faccia nella vita reale no e me sei metà cattivo e metà buono va è libero prossimo aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle ehi io farò una buona cena dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando farò saltare in aria le loro case buono ora tu sono troppo debole finalmente l'ultimo non funziona è troppo forte sei sopravvissuto? è bello voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro lo farò wow grazie voleva una moglie e dei figli ok ti disegnerò una moglie e dei figli oh my god siete dei bellissimi bambini ah bello lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger quindi li vuole indietro cibo piacevole torna indietro cuciniamoli no 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 ma sotto i miei occhi per me sei una persona perfetta ok il prossimo è così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico non credo che le tue scorreggie siano così cattive sei sicuro? sto per morire mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo oh cos'è questo? lo mangerò buono oh aspetta devo andare in bagno buono è ora di lavarsi le mani che diavolo il prossimo è così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso è ora di fare pipì fatto nooo ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore lascia che lo disegni fatto e per me fai solo schifo ma sei una brava persona prossimo aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei per favore baciami per favore baciami sei così intelligente che dovremmo stare insieme ok prossimo volevano avere dei figli ultra intelligenti ok fammi disegnare fatto sei così intelligente stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla wow wow oh no 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 smettila di inseguirmi devo disegnare qualcuno ha ucciso bambalena e anche qualcuno ha ucciso nab nab guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino chi è l'assassino? aspetta mettili giu prima ban ban vedo i tuoi denti su di lei mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore hai il mio braccio oh mio dio mi dispiace mani in alto mani in alto sei arrestato quindi l'hai uccisa ho solo morso la sua mano ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione impossibile che sia in prigione ma aspetta o no abbiamo la stessa cella ah finalmente posso vendicarmi mio dio quindi l'hai uccisa il caso è chiuso no aspetta ho ucciso un poliziotto per salvarla ah sei chiuso qui dentro no mio dio mi hai salvato bacio mio dio quindi li siete innamorati alla fine si ok passiamo al prossimo fatta un uro stavo giocando con bambalena e nab nab oh mio dio è stato così cattivo ma poi si è vendicato su di me e bambalena spero che nessuno mi spaventi di colpo amico fammi uscire ok quindi nab nab l'ha solo spaventata di colpo ma aspetta cos'è questo il naso di coach piccol no mi stavano prendendo in giro dove sei? ah cos'è questo? il mio naso lascia che lo tagli per te no no oh mio dio cosa è successo dopo? mi sono vendicato su di loro ehi cane mi puoi dare il tuo naso? lasciate che lo faccia io per voi grazie ora di vendicarsi amo il mio nuovo naso ehi è la tua fine ora è il turno di bambalena ok vedo bambalena ehi dammi il tuo naso ok grazie ehi bambalena muori ehi 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 brother no 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 ah quindi hai ucciso nab nab e bambalena non lo prometto impossibile figlio di bamban l'hai ucciso tu? non sono stato io lo prometto ho invitato bambalena al mio concerto ma nab nab non piaceva l'idea ehi bambalena ho fatto qualcosa per te cosa? cosa sta pensando? lei è la mia cotta quindi cosa è successo dopo? mi sono vendicato ok nab nab sei pronto per sentirmi cantare? vai ah tempo di riposarsi quindi l'hai inciso caso chiuso no impossibile chi lo ha fatto? aspetta c'è una siringa strumento del dottore penso che il rosso potrebbe ucciderlo non ero io cercavo di farli mutare ora di farti mutare mangia questo ah no 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 ah ora tocca a te no no ha funzionato ah e ora è il momento di unirvi mua perfetto sapevi che avrebbe potuto ucciderli? si ma non è successo mio dio l'umaca selina è il tuo muco li hai uccisi? no in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore cosa stava facendo? stava schivando meme lol ok ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab mi ha buttato in piscina mio dio ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri di nuovo aspetta ha dell'alfabeto hai ucciso bambalena e nab nab ero un peluche normale ma lei sedeva sempre su di me tempo di sedersi ah un'ora dopo ho aggiunto delle spine su di me si pentirà di essersi seduta su di me tempo di sedersi ah due ore dopo ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a bambalena ceniamo insieme ok prendi posto sarà la cena migliore sto rompendo con te aspetta cosa cinque ore dopo ultimo scherzo aggiungerò della tntaa ah o voglio dormire ho avuto una brutta giornata no 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 ah aspetta agrer è troppo hai distrutto la mia vita vieni qui cosa è successo dopo ti ha eliminato si mi ha ucciso in cento modi diversi ti faceva male si aspetta qualcosa sta dando i numeri amanda l'hai fatto tu ho visto bambalena e nablab guidare una macchina e mi hanno investito tempo di guidare la mia nuova auto ferma 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 l'hai uccisa? No, lei è sopravvissuta solo con una botta in testa. Capisco. Ah. Amanda, anche lei è morta. Aspetta, vedo un coltello. Coltello dello sceriffo. Ehi, tu l'hai fatto. Stavo solo togliendo le loro maschere. Sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt. Prima bambalena. Amico. Altre maschere. Amico. Mio Dio, altre maschere. Ehi, torna qui. Amico. Cosa? Ok, prima la fata. Cosa? Justin. Pensavo avessi paura della fata. Ok, la famiglia di Zolfius. Wally. Oh, my God. Amanda. Ora il puzzolente Joel. Per favore no, sono brutto. Ah, cacca. Fiddles. Sono bello. Vediamo ah. Skipping. Yeah, ok, dopo Nibbles. Oh, my God. Adam di Lenkibox. Amico impossibile. Ora per questo ragazzo del capitolo 4. Per favore, non fatelo. Ho dei figli e sono brutta dentro. Lo farò a A. Flamingo. Wow, pazzesco. Prossimo Nab Nab. Sono la persona più brutta del pianeta. Non fatelo vedere. Non dirlo. Nessuno è brutto. Mio Dio. Così carina. Prossimo Jumbo. Oh, my God. M. Chi sei? Ok, prossimo. Luma Casseline. Please don't do it cause 1 a M. A verage. Lo farò. Jenna. Ok, abbiamo controllato molti di loro. Ora questo ragazzo, dà un nuovo capitolo. Vediamo il tuo volto. Bello. Prossimo Bamban. Vediamo. No, per favore no. Cosa, Rick, ti amo. John Viola. Vediamo. No, per favore. Smettetela subito. Nonno di Squid Game. Prossimo è Squalo. No. Ah. Isho Speed. Prossimo, Pigster. Quattro. Kylos. Prossimo allenatore Pickles. Mister Beast. Wow. E ora tutti aspettavamo Nab e Bambalena. Mio Dio. Wow. Ok, quindi non li hai eliminati. Qualcuno ha sparato allo sceriffo. Ah. Perché l'hai fatto? Hai ucciso Nab Nab e Bambalena? Odiavo Nab Nab perché mi entrava nell'occhio. Per favore esci dal mio occhio. E odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini. Bambini, state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio. Ok. Tempo di rubare dei bambini. I miei bambini. Mio Dio. Quindi cosa è successo dopo? Così un giorno volevo dargli una lezione. Mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione. Per favore no. Spavento. Aspetta, sono morti? Aspetta cosa? Sì. No. Aspetta, vedo qualcuno. Ehi, fermati qui. Ero innamorato di Bambalena. Sposerai Bambalena? Sì. Bambalena, lo sposerai? Sì. Aspetta. No, lui l'ha rubata. Ora baciami per sposarmi per sempre. No, per favore no. Per favore no. Ma è... No, perché lo hai eliminato? Te che chiedi? Ti stavo salvando. Ma è Justin. Stavamo scherzando con te. No, mio fratello. Quindi hai ucciso il falso Mab Mab. Sei un sospetto. Ah, ho pia. Perché? Era Zulfius, non io. Hai ucciso Bambalena? Facevo colazione con il ketchup. Il mio cibo? No. No. Li hai mangiati tutti? Ero sazio. Cosa? Sentito uno sparo. Cosa? Amico rosso pensavo fossi morto. Dimmi cosa hai fatto. Stavo cercando di uccidere Bambalena e Nab Nab e ho fatto una competizione per gli spaventi. Tempo di uccidere il giardino di Bamban. Siete tutti a metà partita. Facciamolo. Chi ha vinto allora? Nessuno. Quindi non sappiamo ancora chi l'ha fatto. Aspetta, cosa stai facendo? Mio dio Pigster, quindi hai fatto tutto tu. Pensavo che avessi fermato il caso. Ero solo affamato. Ok, stai andando in prigione. Impossibile che sia stato Pigster. Ma ce l'abbiamo fatta. Lei è nella mia casa. Impossibile. Mi dispiace. Volevo baciarti. Aspetta. Non sono Bambalena. Hai sbagliato persona. Hai sbagliato persona. Abbiamo bisogno di Bambalena. Cosa sta succedendo? È la mia casa. Devo andarci. Oddio. Cosa sta succedendo qui? Bambalena bevi questo. Ah. No, mai. Dammi quello. No. Ora esploderò. Oddio. Cosa è successo qui? Perché tutti sono Bambalena? Questa persona ci ha cambiato e ora devi scoprire quale Bambalena è reale. Oh, mio Dio. Bambam. Quali pensi sia la tua ragazza? Questo. Posso sentirlo. Non credo. Era Stinky Joel. L'hai baciato. No, 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 man. Quindi abbiamo ancora dieci Bambalenas. Ora dobbiamo controllare le vostre voci. Prima Bambalena. La 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 la. Wow. Bellissima. Prossimo. E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente. Ok. Non sospetto. Prossimo. Ciao. Dove ti stai nascondendo? Per favore. Fa male. Sono forte. Um. Non suona esattamente come Bambalena. Ma va bene. Prossimo. Ascolta. Se riesci a sentire quello che sto dicendo, fai un cenno a qualsiasi telecamera. Cosa? Voce maschile. Sei un sospetto. Prossimo. Quindi ci incontriamo di nuovo. Dove sono i miei figli? Prossimo. Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza. Sospetto. Prossimo. Mi ha portato in bagno. Questo era strano. Prossimo. Piacere di conoscerti. Um. Penso che tu sia malato. Prossimo. Sei stato uno studente cattivo. Bene. Ultimi due. Cosa? Ok. Questo è Opila. Ma l'ultimo. Stai uscendo. Stai uscendo. Avevo ragione. Sono rimaste solo nove bambalena. Oh my god. Quindi ora devo controllare i vostri spaventi. Numero uno. Prossimo. 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 Non male. Sembra reale. Ok. Questa persona era sospetta prima. Attaccami. Dove pensi di andare? Prossimo. Era come bambalenas. Non sei più un sospetto. Prossimo. 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 era reale. Prossimo. La mia testa. Ma era uno spavento molto sospetto. Prossimo. Di nuovo. Oh fratello. Perché hai lo spavento di Nabnab? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello. Sospetto. Prossimo. Unne. Spavento incredibile. Mi piace. Sei reale. Prossimo. Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles. Sospetto. Prossimo. Tu lo sai. Ahia. Perché lo spavento di Bambam? Oh. Ho appena cliccato il pulsante sbagliato. Era ancora Bambam. Stai venendo eliminato. Ah. Era Bambam. Ops. Ok. Prossima categoria. Disegnati ora. Ok. Fatto. Non sono bravo a disegnare. Facile. Non un bel disegno. Prossimo. Non il migliore ma ok. Prossimo. Wow. Prossimo. Wow. Buono. Prossimo. Brutto. Sei un sospetto. Prossimo. Um. Perché c'è un Stinger Finn? Cosa? Um e nulla. Strano. Prossimo. Buono. Wow. Hai dipinto un modello 3D. E l'ultimo. Um. Scherifo. Che diavolo. Mi dispiace ma stai venendo eliminato. Ciao ciao. Ah. Avevo ragione. Non ne restano molti. Prossimo. Devi disegnare la tua cotta. Facile. Mostrami. Ohaio Bambam. Prossimo. Bene. Ok. Prossimo. Cosa? Wow. Figo. Prossimo. Bambino ma Bambam. Quindi ok. Prossimo. Bambam malvagio. Bene. Questa è la mia cotta. Aspetta. Cosa è questo? Um e... E tu? Ragazzi siete sospetti da ora. Ma ora? Bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro. Oh my god. Oh no. Non il migliore. Prossimo. Quello blu. Bambalena era molto meglio. Prossimo. Quello rosso. Lasciami pensare. Meglio del precedente. Viola e arancione. Perché questo? Viola molto bene. Ma arancione. Questo è brutto. No no no. Ne restano tre. Facciamolo. Vai. Siete al sicuro ragazzi. Mi dispiace fratello ma sei falso. Per favore no. Stinger Flynn. Quindi ne restano solo sette. Ok. Quindi ora ho una domanda. Quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato. Dove sei andato? La risposta corretta è nella stanza su andate. Je ne suis pas dué pour des saints. Um. Siamo andati a un appuntamento. Stavamo bevendo caffè. Per favore lasciami in pace. Wow. Mi chiedo dove l'ha portata. Sembra reale. Ok. Quindi ora tu. Lo stesso. Data. Ok. Lasciami pensare. Mi ha portato per l'operazione. E voleva cambiarmi. Ah. È ora di cambiarti. Ah. Perfetto. Un strano. Ok. Tu. Mi ha portato a Umme. In prigione. Cosa? Non credo sia corretto. Ok. Tu. Data. Prossimo. Mi ha portato fuori per un appuntamento. Ok. Tu. Mi ha portato in bagno. Cosa? Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno. Fratello sei un sospetto. E l'ultimo. Sì. Ok. Non riesco ancora a scegliere chi uccidere. Quindi ora. Bambalena era molto veloce. Benvenuti al torneo finale. Siete pronti? Sì. Sì. Wow. È così veloce. Prossimo. E prossimo è prossimo. Ok. Vediamo chi ha vinto. Bravo. Sei stato veloce. E aspetta. Perché ne manca uno? Mio Dio. Mi dispiace ma devo ucciderti. Ciao. Lumaca seline. Bambalena era intelligente. Quindi ora risolvi questo quesito. Vieni. Una mela più una mela equivale a? Due mele. Hai ragione. Bene. Prossimo. Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro. Hai ragione. Sei legittimo. Prossimo. Aereo meno carburante per auto equivale a boom. Wow. Sei così intelligente. Prossimo. È così facile. È zuppa di pomodoro. No. Cosa? Assassino più coltello equivale a morto. Non sei bambalena. Ciao. Zolfius. Non bene ma abbiamo solo cinque bambalene rimaste. Ok. Quindi disegnati e poi diventa quello. Tu per primo. Fatto. Wow. Sembra bambalena. Ok. Quindi ora per il prossimo. Facile fratello. Aspetta. Cosa è questo? Sei un sospetto. Ok. Dopo un sospetto il prossimo. Andiamo. Bambalena più nabnab. Molto strano. Ma ok. Ora tu. Cosa è questo? Zolfius più bambalena. Prossimo. Facciamolo. Cosa è questo? Fratello. Stai ricevendo una spilletta di sospetto. Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata. Mostrerà chi è reale e chi no. Vado per primo. Potresti essere bambalena. Ok. Quindi il prossimo. Questa pozione l'ha eliminata? Fratello. Ok. Quindi il prossimo. Grande prossimo. Mio Dio. Questo è sospetto. Hai il corpo di nabnab. Quindi il prossimo. Questo è falso. Era Coach Pickles. Mi dispiace. Ok. Quindi abbiamo solo quattro bambalene. Ok. Quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita. Cominciando con il primo. Lei era super forte. Perché sei così forte? Ah. Sono sempre stato così. Ok. Questo era corretto. Bambalena è forte. Prossimo. La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono due persone. Ok. Ora vediamo cosa c'è dentro di te. Cosa? Due persone. Ok. Questo è sospetto. Due persone sono in Pigster. Lei ha ucciso Bambam perché era con nabnablena. Ok. Bambalena potrebbe essere gelosa di Bambam. È corretto. Lei era innamorata di Pigster. Aspetta. Tutto questo mi dice che sei un Pigster. Avevo ragione A. Ne restano solo tre. Lei è stata morsa da Bambam e poi ha perso la mano. È vero e corretto. Prossimo. Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici. Questo è il problema matematico più difficile del mondo. Due più due. Quattro. Mio Dio. Sono così intelligente. Sei intelligente come Bambalena. Era molto lenta come una lumaca. Era come una lumaca quando camminava. Mostrami come cammini. Mio Dio. È la cosa di Lumaca Selene. Strano. Prossimo. Lei puzzava. Bella cena Bambalena. Non mi sento così bene. Oddio cosa. Mio Dio. È come Stinky Joel. Aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso. Che diavolo. No. Strano. Aveva una grande pancia perché amava mangiare. Fratello. Stava spaventando i nerd. Siete tutti nerd. Odio i nerd. Attacco. Ok prossimo. Lei era la cotta di tutti. Anche di Adam di Lenkybox. Sì, è vero. Tutti amavano Bambalena. Aveva dei bambini con Bambam. Mostrameli. Wow. Sono dolci. È stata colpita da Jammo Josh. Tutte le cose qui sono corrette. Ma ora passiamo alla prossima categoria. Ora devi costruire la tua statua. Il migliore equivale a vincere. Ti sto chiudendo e aspettando i risultati. Cinque ore dopo. Ok. Vediamo i risultati. Um. Non male. Prossimo. Cosa è questo? Non è Bambalena. Mi dispiace. Sospetto. E l'ultimo. Wow wow wow. Perfetto. Mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione. Zambo Josh. Mio Dio. Ok. Quindi sono due Bambalene rimaste. Vediamo cosa hai fatto. Lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco. Sembrava un ragno con un sacco di denti. È anche il ruolo di Nabnab. Fratello. Era un maschio. Aspetta. Bambalena è una femmina. Non un maschio. Ok. Sai cosa? Sei falso. Impossibile. Nabnab. Ok. Quindi questa è la vera Bambalena. Iai. Sì. Finalmente mi hai trovato. Penso che entrerò. Devo scegliere. Rosa. Muso di maiale o muso di formichiere. Maiale. Quattro occhi o due. Quattro. Prossimo. Zoccoli di maiale o zampe di pollo. Zoccoli ovviamente A. Dai. Una testa o due teste. Una. Prossimo. Denti da bambino o denti da nonno. Nonna A. Amo mia nonna. No, no, no. Mamma mia. Orecchie da gatto o orecchie da elefante. Piatto. Cosa? Sto bene. Essere un cuoco. Jump scare più spaventoso o carino. Il più spaventoso. Wow sono un maialone. Wow sono il prossimo. Essere nero o grigio. Nero. Bello. Prossimo buco con denti sulla pancia o senza denti come squaloli. Dai. Avere ali o pinne. Pinne. Dai. Squalo o delfino. Squalo. O. Grande sorriso o grande tristezza. Sorriso. Forte o debole. Forte. Assassino di Stinger Clean o amico di Stinger Clean. Ovviamente assassino. Oh my god. Bello. Mio dio sono il prossimo. Ciano o rosso. Ciano. Aspetta. Un sacco di braccia o no. Tante. Dai. Sembrare spaghetti o pizza. Spaghetti. Sono fatto di noodles. Dieci occhi o occhi sporgenti. Occhi sporgenti. Essere cavaliere o ninja. Ninja. Ok prossimo. Denti affilati o no. No. Dai. Jump scare o jump scare più spaventoso. Quello più spaventoso. Mio dio sono così spaventoso. Sono il prossimo. Tono di pelle viola o blu. Viola. Magro o grasso. Magro. Nessun occhio o tanti. No. Braccia lunghe o corte. Lunghe. Ma tu aiuti. Occhi sui piedi o sulle mani. Occhi sui miei piedi. Debole o forte. Debole. No. Sembro male. Jump scare o no. Jump scare. Bello. È fantastico. Wow sono il prossimo. Giallo o rosso. Giallo al 100%. Collo lungo o corto. Lungo. Ovviamente. Dei. La mia testa. Occhi spaventosi o normali. Spaventesi. Wow. Lingua lunga o corta. Lunga ovviamente. Wow wow wow. Bello. Prossimo. Puntini o strisce. Cosa intendi. Dei. Puntini. Mio dio. Essere piccoli o giganti. Giganti. Jump scare il più spaventoso o carino. Il più spaventoso. In cosa mi sono trasformato. Wow è il nostro turno. Siamo trigemini. Scegliamo il colore. Prossimo. Scelgo tre occhi felici. Tre occhi arrabbiati. Occhi tristi. Ok non c'è opzione per i denti e non dovremmo prenderla. Scegliamo. Denti da bambino. Denti normali. Un sacco di denti. Prossimo ragno gu. Prossimi cappelli. Prossimo. Avere veleno o no. Avere. Wow sembri così fico. Il mio turno. Il mio turno. Incredibile. Oh mio dio dove sono? Ah il primo è pronto. Tempo per altri. Ehi cosa ci hai fatto? Ti distruggeremo ora. Mai. Da ora siete miei figli e io vi controllo. Cosa? Dove sono? Devo controllare tutti i vostri jump scares che equivale a uccisi. Prima la giraffa. Andava bene. Ti sto prendendo. Va bene. Prossimo Zolfius. Ah questo era spaventoso. Ti sto prendendo. Ok. Il prossimo è Apollo. Ah era medio. Ti sto prendendo. Cacca. Ciao ciao Opila. Vai a spaventarmi. Ho paura. Paura media. Ti sto prendendo. Va bene. Ora Stinger. Facile. Nu. Fa male. Spaventa Passeri. Fantastico fratello. Ti sto prendendo. Grande. Ora lo sceriffo. Vieni. Era triste. Non spaventoso. Cosa? Ti sto prendendo. Male. Oh no. Spaventa Passeri. Pigro fratello. Per favore no. Ah. Lumacca. Ti sto prendendo. Fantastico fratello. Va bene il prossimo. Silenzio Steve. Meglio stare attenti. Cosa? Era così spaventoso. Ti sto dando. Grande ancora. Prossimo. Fratello sembri un bambino. Cosa hai detto? Era ultra doloroso. Fantastico fratello. Prossimo. Pronto. No. Ah. Ti sto prendendo. Grande. Ok ora. Tempo per Pigster. Svegliati. Ok. Scusa. Jump scare. Non fa paura. Cosa? Ti sto prendendo male male. Meglio correre ora. Dai. Devo dignitarmi di lui. Ora tu. Se vuoi salvare la vita di Stinger Fallen. Metti mi piace e iscriviti in due secondi. Grazie. Bene. Ti sto prendendo grande. Noodles vai. Abbastanza bello. L'ultimo. L'ultimo. Mamma Blena. Per me è molto medio. Cattivo. Ok. Quindi siete nel mio team ragazzi. Chiamiamo la polizia. Siamo qui. Polizia polizia. Prendeteli. Ok. Cosa sta succedendo? Tutto il tuo team è arrestato. Oh my god. Nu. Poliziotto. Cosa stai facendo qui? Devi valutarli. Oh bello. Ha rubato il maialone con la sua grande mano. Era mio padre. Mostro. Non mi dispiace. Prossimo. 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 Quando l'ha fatto. Ha mostrato il vero volto del maialone. Wow. Dove sono? Vi mostrerò il mio vero volto. Um ok. Mio dio. Il tuo viso è bellissimo. Si è innamorato di un altro Stinger Fallen. Va bene. Aveva un sacco di fratelli e catturavano bambini in piscina. Lasciami invece per favore. Mi nasconderò nella piscina. Um me. Cos'è questo? Stinger? Prendeteli. No 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 no. Male male male. Stai morendo. Aspetta. Sento l'aggiornamento. Wow. Sono a blocchi. Il prossimo. Il dottore iniziò a catturare ogni giardino di bambà nelle gambe. Oh god. Tornate indietro sprovveduti. Ora siete chiusi in gabbie. Era molto scortese da parte del dottore. Erano chiusi in gabbie dal dottore perché voleva farli mutare. Ok ora vi muterò. Per favore no. No per favore non farlo. Troppo tardi amici miei. Troppo tardi. Ragazzi siete mutati. Mio dio. Gli ha chiusi tutti in gabbia ed era troppo piccola per loro. Ok ragazzi. Per me siete brave persone. Venite qui. Cos'è questo? Ok aggiornamento. Bello. Il prossimo. Era una nuova entità nel giardino di bambà. Mi chiedo chi sia questo. Vuoi vedere la mia forma finale? UMM sì. Ma poi ha mangiato la persona che lo stava mangiando. Credo che il mio ramen sia pronto. Perfetto. Qui. Ecco a voi. Grazie. Smetti di mangiarmi. Aspetta cosa. Aspetta cosa. Wow è male. Erano i noodles delle persone e venivano avvelenati da esso. Chi vuole noodles? Io. 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 Non mi sento tanto bene. UMM. È meglio che mi nasconda. Ma stava facendo jumpscare alle persone come noodles. Wow. Bei sushi. Per favore esci. Non riesco a toglierlo. Per me dovresti scendere. Scusa. Sento il prossimo aggiornamento. Wow. Prossimo. Aveva un'intera armata di frutti. Questa è la mia intera famiglia. Ha organizzato un quiz truccato in cui la gente moriva. Benvenuti al gioco a quiz. Prima indovinate chi è questo. Un bambam. Sbagliato. Prossimo. Due più due uguale. Quattro facile. No. Cinque. Cosa? È tutto per oggi. Ciao. Quando qualcuno rispondeva male diventava arrabbiato e uccideva. Voglio vincere di soldi. Indovinate questi due personaggi per primi. Opila Nerd e Stinky Noah. No. Uccello Opila e Stinky Joy. Sbagliato. Attaccala. Fa male. Ora attacco finale. Per me sei davvero cattivo. Tempo di aggiornamento. Wow. Prossimo. Aveva un collo così lungo che gli aerei volavano verso di lei. Ahahahah sei così piccolo. Meglio guardare mia sorella. Oh my god. Oddio. Oh my god. Cos'è questo? Wow è strano. Stava spaventando la gente a chilometri a causa del suo collo. Lasciami in pace. Ah 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 eccomi al sicuro. Um me aspetta. Oh my god. Di nuovo. È strano. Si stava confrontando con fammi farlo per te. Qualcuno può aiutarmi a far uscire i miei bambini. Sì. Grazie. Ora il secondo. Sono pronto. No. Figlio siamo bloccati. Era così cattivo e mischino. Ciao. Prossimo artista. Ciò che disegna diventa reale. Quindi disegna molte ragazze. Lascia che disegni qualcosa. Wow wow. Baciami. Si disegna un'auto volante e uno stile di vita da miliardario. Voglio essere miliardario così tanto. Wow. Sono ricco. Ha disegnato nuovi mostri spaventosi dal giardino di Bambani se ne è pentito. Per me eri una cattiva persona. Sento l'aggiornamento. Wow. Chissà cosa c'è dopo. È il momento per loro. Ha fatto la sua canzone. Era triste. Ma qualcuno l'ha adottata. Prima. Dopo. È stata portata via dalla famiglia dalla polizia. Cazzo. Questo bambino non perlengono a te. Tu devi tornarlo al suo reale proprietario. Mio Dio. Era una storia. Vieni qui e opila. Dai. Grazie. Ah. Aggiornamento. Wow. Il prossimo. Avevano una triste storia di fondo. Per me è così triste. Vieni qui. Il prossimo è il poliziotto Barry. Ha mostrato tutti i volti di Darten of Bambam. Oggi vi mostrerò tutti i volti di questi criminali. Prima Bambalina. Oddio. Impossibile. Bel volto. Prossimo. Bamben. Sembri sospetto. Wow. Hai questa piccola lingua. Prossimo sceriffo. Oddio. Amico. Gemelli. In costume. Il prossimo è l'umaca. Pirata. Prossimo. Jumbo. Sto iniziando a vedere. Wow. Il prossimo è opila. Ahahahah. Cosa? Prossimo. Nab Nab. Brutto. E Stinger. UMM. Non ha un volto. Dai. Era male. Il poliziotto Barry ha mangiato troppi prigionieri e aveva bisogno di un'operazione. Scapperò. Ti mangerò. No. Cinque minuti dopo. Ehi dottore ho bisogno di un'operazione. Non mi sento bene. Ok vieni. Oddio. La tua pancia è così male. Prossimo morto. Il poliziotto Barry ha rubato il balloschibidido e ha iniziato a ballarlo. Ha chiuso tutti i meme in prigione. Il cuoco del poliziotto Barry faceva pancacchi con personaggi famosi e poi diventavano reali. Ok fratello. Mi hai fatto arrabbiare. Ciao. Ok ho finito. Dal jumbo Josh più piccolo a quello più grande e al jumbo più grande del pianeta. Devo salire su queste montagne russe. Controlla la tua altezza. Ok. Nessun problema. Sei troppo piccolo. Vai al posto per bambini. Sarai il mio nuovo amico. Cosa? È il mio turno. Beh salì. Ho un'idea. Scaverò la buca e ci entrerò. Sì facile. È stato facilissimo. Pensavi di potercela fare? Jump scare. Ai. Non posso arrendermi. Aspetta. Posso saltare attraverso. Andiamo. Ce l'ho fatta. E sono diventato più alto. Il prossimo. Wow. E poi. Ehi. Non lasciarmi. Devo saltare. Sì. E sì. Wow. È più alto. Ehi fratello. Cosa? Come ci sei arrivato? Mi sono intrufolato. Ti spezzerò tutte le ossa. Fermati. Le mie ossa. Papà mi ha toccato. Non mi importa. Lui è più alto e migliore. Grazie. Ma ora la persona che salterà sopra quegli edifici otterrà il male ed è facile. Facile. Wow sei così alto. Il mio turno. Difficile. Il prossimo tentativo. Sì. Wow. Questo è difficile. Ah. Sono un professionista. Figlio. Sono fiero di te. Cosa? Salto. Yes. 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 No. 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 Perdente. Vero. Togliamolo di mezzo. No. 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 Il giorno dopo. Sono così cattivo che papà mi ha cacciato dalla famiglia. Fermati. Ragazzi. È il momento dell'attività all'aperto. I bambini saltano attraverso quegli animali. Perdente. Perdente. Tutti mi maltrattano sempre. Devo smetterla. Bello. Yo. Perdente. Come è possibile? Il potere della mente. Sì. E l'ultimo. Ancora no. E adesso? Non può essere così. Chiamo mio padre. Maison dovrebbe vincere. Ha barato. Ok. Controlliamo. Ok. La persona che salta sul livello più basso perde. Ok. Sono il primo. Ottimo salto. Penso che Jumbo non mi batterà. È il mio turno. No. Avrò il miglior salto di tutti voi. No. Abbastanza buono. Grande salto. Ok. Il mio turno è stressato. Ma posso vincere. Wow. Ce l'ho fatta e sono ancora più alto. Wow. Ce l'ho fatta. E sono ancora più alto. Ok. Sei davvero bravo. Congratulazioni. Sì. È vero. Eri l'uomo più alto del mondo. Grazie. Un me. Cosa? Non può essere così. Un me. Un ciao. Distruggi le sue ossa. Distruggi le sue ossa. Mi ha rotto tutte le ossa e sono in prigione e lui ora è il più alto. Tu sei la persona più alta. Grazie. Devo uscire. Torta. Mangiamo. Wow. Era con la chiave. Corri. Corri. Ora devo saltare. Saltare. Ok. Questo è difficile. Holy Jesus. Papà, aiutaci. Sono così alto. Bello. Ah, è il vincitore. Nel frattempo. Questa è una gara per la persona più alta del mondo. Sono il primo. Bravo. Buono. Non abbastanza. Mi fanno male le ossa. È il mio massimo, ma sono ancora il migliore. Aspetta. Aspettate il mio tempo per salire. No, non puoi andare più in alto. Io posso A. L bozzo. Non può essere così. Farò il furbo. Cosa? Hai bevuto una pozione illegale. E adesso? Ho Pila Verda vinto. No, aspetta. Sto sognando o sta diventando più grande? No. Sono lontano, vero? L'operazione è finita in sicurezza. Jumbo è la persona più piccola del mondo. Non può essere così. Sono scappato via. Ora devo tornare alla mia altezza. Veloce. Salto. Sì. Wow, mano. Wow, è bello. Opila Verda mi ha detto di colpire te e lo farò. Il prossimo. Fermati. Mai, mai. Questo è difficile. Wow, ultrasalto. Ora. Ora cosa? Sono più alto. Umme. Facile. Salto. Bello. Il prossimo salto. Oh, ma no. Wow. Aspetta. Ho sentito che qualcuno... Prenditelo. Oh. Oh, my God. Salto. Oh, my God. Oh, my God. L'ha fatto. Oh, no. OMG. Veloce. Devo saltare. Oh, my God. Prenditi e avrai fortuna per il giorno successivo. Ma se non è così. Wow. Il prossimo. Difficile. Ma ce l'ho fatta. E l'ultimo salto. Oh, my God. Salto. Mi è riuscito. Opila. Mettiamo fine alla nostra guerra con la persona della compressione di dimensioni. Chi vince può tagliare le gambe dell'altra persona. Ok, noob. Sono il primo. Bene. Questo è il mio limite. È il mio turno. È il mio turno. Oh, no. È il mio massimo. Devo distruggerlo in qualche modo. Sono svenuto. Aspetta. Opila, un uccello. Opila verde è il nostro dio. Opila verde è il nostro dio. Devo distruggerla. Out. Ma prima ho bisogno di aiuto. Poliziotto Barry, puoi aiutarmi? Opila verde è troppo potente. Sì, questi sono i criminali più alti del mondo. Dagli un punteggio per farli aiutare te. Ok, prima cosa. Ha le gambe lunghe perché è un robot. Mostrami. OMG. Qualcuno ha fatto cento copie di lei per distruggere il mondo. Ma lei ha distrutto quelle copie con le sue grandi gambe. Tutti i miei Megan sono pronti. I am a robot. Aspetta. Chi è questo? Fermate subito le vostre azioni. Fermati. 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 Non è stato male. Ballava danza lirica e per sbaglio distruggeva gli edifici. La mia casa è un terremoto. Ti do un voto negativo. Scusa. No. Prossimo. Saltiamolo. Sì, sì, sì. È alla persona più grande del mondo. Questa è una gara per i mangiatori più veloci del mondo. Pronto? Via! Che cosa? Fatto. È troppo grande. Bene. Ti ho sempre apprezzato bro. Ha fatto una collaborazione con Mercoledì e tutti l'hanno amata. Era divertente. Ti do un buon voto. È dalla Turchia e la Turchia ha problemi con i terremoti. Quindi vuole che le persone aiutino donando. Unisciti alla nostra squadra Skibi. Prossimo. Sei così grande. Era così grande che la sua testa è passata attraverso il tetto. Voglio essere più grande. Sua moglie stava partorendo e i bambini sono usciti grandi. Penso che sia arrivato il momento. Ohio Bert. Ho bisogno di te nella mia squadra. Vai al buono. Stava combattendo con King Kong senza sapere che lui era il suo avversario. Nice. Mi chiedo chi sia il mio avversario. Ah, ti distruggerò. Wow. Hai perso contro King Kong. Io ero sempre nella squadra di Godzilla. Aveva dei bambini grandi come lei. Ha combattuto con Siren Head nella vita reale in Cina. Bro, cosa stai parlando? Cosa? Bene. L'hai battuto. Prossimo. Era super grande ma Superman lo ha portato in aria e lo ha distrutto. Questa è stata la scena migliore che abbia mai visto. Bene, prossimo. I suoi figli sembravano di Ohio. Mostrami i tuoi figli. Ok, sono dell'Ohio. Morirà all'età di 90 anni ma sapeva che era il suo momento e andrà in paradiso. Oh, va benissimo. Sheriff e Lumaca voleva essere più grande dei suoi amici Jumbo Josh e Fiddle. Sono grandi? Sì. Wow, sono davvero grandi. Era piccolo prima ma è diventato grande a causa della pozione. Sono così piccolo. Ha ha ha. Che cos'è questo? Eri una buona persona. Unisciti alla nostra squadra. Ora Ziphyr. Era una lumaca piccola che una ragazza ha trovato sull'albero ma ogni giorno diventava più grande. Wow, bella lumaca, voglio adottarlo. Nanna, nanna, nanna. Mi dispiace ma ti lascio bambino. Ti ha abbandonato perché eri troppo grande. È così triste. Faceva jumpscare alle persone per liberare la sua rabbia. Mostrami il tuo jumpscare. Sono due persone rimaste. Ma perché è così piccolo? Era più piccolo di un atomo. Vediamo. Wow, è così piccolo. Poteva trasformare la sua dimensione in una dimensione più grande di quella di Godzilla. Mostrami. OMG. Quando si trasformava in ultra piccolo. Ok, ho bisogno di te nel mio team. L'ultimo. Era super grande perché aveva ucciso tutti nella leggenda dell'alfabeto. Era così grande che tutti nel mondo potevano vederlo. No, Dio! Era il migliore nel risolvere problemi matemati. Ok, amico, sei nel nostro team. Vai al posto giusto. Ok, il mio team è pronto. Dai tutti i tuoi poteri. Sto diventando troppo grande. Wow. Facciamo l'ultima battaglia. Ok, inutile. Salto. Oh, no. Ah, e adesso cosa? Oh, no. È caduto. Quindi, ragazzi, ho vinto. Grazie per aver guardato e ricordate di non mollare mai. Ciao.